Il mandato che gli iscritti ci hanno conferito oggi è chiaro. Il Movimento 5 Stelle sosterrà il nuovo governo. Lo faremo nella piena consapevolezza di dover difendere le tante buone cose realizzate fino ad oggi e di doverne realizzare ancora di più. La conferma, da parte del Presidente incaricato Draghi, di voler accogliere le nostre proposte, inclusa l'istituzione di un Ministero per la Transizione Ecologica, è un primo significativo passo avanti. Così in un post su Facebook il capo politico del Movimento 5 Stelle Vito Crimi. Quella di ieri è stata una giornata importante, come le altre che hanno preceduto la nascita dei governi di questa legislatura. Ancora una volta il Movimento ha saputo dimostrare con i fatti la sua natura democratica e partecipativa, rivolgendosi ai propri iscritti e affidandosi a quella intelligenza collettiva che ci ha consentito di arrivare fin qui e di realizzare cose positive per il Paese. Ha aggiunto Crimi.